Valentina Di Lauro in rappresentanza di Consea SRL, è stata presentata, si sta presentando questa mattina l'applicazione Riciclario, uno strumento fondamentale innanzitutto e non solo per gli ingombranti, perché purtroppo esiste questo malvezzo, usiamo un eufemismo, per cui molti cittadini quando hanno da cambiare un po' l'arredo della casa, in maniera poco civile, tutt'altro che civile, tendono ad abbandonare i mobili vecchi, invece in questo modo si dà una seconda vita ai mobili e soprattutto si dà una prova di civiltà. Assolutamente, attraverso Riciclario, Riciclario non fa altro che andare ad aggiungere una possibilità in più al cittadino per poter richiedere il servizio di ingombranti, non solo il numero verde, quindi rispettando i giorni e gli orari per poter chiamare il numero verde, ma in qualsiasi orario o giorno della settimana sarà possibile attraverso l'applicazione compilare la procedura guidata per chi richiede il ritiro di ingombranti. Quando viene presa in carico dall'ufficio tecnico del Chima Ambiente, l'utente viene contattato per fissare un appuntamento, quindi una scusa in meno per non fare la richiesta, perché se ci può essere la scusa di non riuscire a chiamare negli orari in cui attivo il numero verde, così non si può avere scuse, perché lo si può fare anche alle due di notte la richiesta di ingombranti.